Nell'ennesima tornata referendaria che ha visto i casentinesi chiamati ad esprimersi in merito a un'ipotesi di fusione di alcuni comuni ha nuovamente vinto il no. Due le ipotesi contrapposte e con il comune di Chiusi della Verna fare il terzo incomodo tra Bibiene, Ortignano-Raggiolo e Chitignano e Castelfo-Cognano. I cittadini di Chiusi che si sono recati alle urne raggiungendo il 69% degli aventi diritto hanno detto in entrambi i casi di no con un netto 62,68% doppiando i consensi dei favorevoli al matrimonio con Bibiene fermi al 31,79% e in nome del voto utile prosciugando i consensi in favore della fusione con Castelfo-Cognano e Chitignano che infatti ha ottenuto appena il 2,3%. Da parte loro sia Ortignano-Raggiolo dove ha votato il 59% degli aventi diritto che Bibiene, dove ha votato appena il 36,41% del corpo elettorale, hanno risposto favorevolmente all'ipotesi di fusione con Chiusi della Verna, rispettivamente con il 59% e con il 61,5%. Se però guardiamo i voti in termini assoluti, il peso demografico di Bibiene si fa sentire, garantendo all'ipotesi di fusione una vittoria di quasi 500 voti. Dall'altro lato invece appena il 17,19% degli aventi diritto dei residenti a Castelfo-Cognano si è recato alle urne, rispondendo comunque favorevolmente nel 51,34% dei casi. Discorso simile a Chitignano dove ha votato il 26,26% dei cittadini, esprimendosi però a favore del no alla fusione nel 60,9% dei casi. Diverso il risultato in Valdarno. Il 52,37% dei cittadini di Laterina è andato a votare, esprimendo il proprio sì alla fusione con il comune di Pergine nel 57% dei casi. A Pergine invece, dove ha votato il 60,49% degli aventi diritto, i sì hanno vinto appena di 19 voti.